Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Senza Logica Malsicogita. Dopo gli esempi effettuati con il metodo della deduzione naturale per la logica proposizionale e per quella dei predicati è giunto il momento di trarre delle conclusioni intermedie su di esso. In particolare siamo finalmente pronti a capire che cos'è un teorema dal punto di vista logico. Nel caso della logica proposizionale se una forma proposizionale qualsiasi X maiuscolo non è una tautologia allora non è possibile fornire nessuna dimostrazione di X nel calcolo della deduzione naturale. In altre parole se non sapessimo che X non è una tautologia allora tenteremmo in vano di trovarne una dimostrazione. Invece nel metodo dell'albero semantico è sempre possibile dimostrare se una forma proposizionale è una tautologia oppure no. Attenzione però, questo vale solo per la logica proposizionale. Infatti sappiamo che nella logica dei predicati il metodo dell'albero semantico in generale non è un procedimento di decisione per la validità delle formule ben formate, anche se nella stragrande maggioranza dei casi ci consente di determinare se una formula ben formata è valida oppure no. A questo punto qualcuno di voi potrebbe sollevare delle perplessità di questo tipo. Scusa Michele, il calcolo della deduzione naturale sembra essere più complesso rispetto al metodo dell'albero semantico e in generale rispetto agli altri metodi di ragionamento che abbiamo analizzato. Inoltre pare non conferisca nessun vantaggio particolare a dispetto dell'incremento di complessità. Infine, in virtù di quello che hai appena detto, sembrerebbe addirittura costituire un regresso rispetto al metodo dell'albero semantico. Ma allora per quale ragione dobbiamo studiarlo? A che cosa ci serve? In realtà il calcolo della deduzione naturale non viene utilizzato solo per la risoluzione degli esercizi o per gli esempi che vi ho mostrato nei precedenti video, ma serve a sottolineare qualcosa di estremamente più importante, e cioè che vi è un esiguo numero di regole dalle quali è possibile derivare tutte le altre regole logiche. Infatti possiamo dimostrare che tutte le regole della deduzione naturale sono corrette, tutte, sia quelle assunte come primitive che quelle cosiddette eliminabili. La scoperta che il calcolo della deduzione naturale è corretto e completo ci ha consentito di rispondere in maniera completa e rigorosa alla seguente domanda. Che cos'è un teorema di una teoria che ha come assiomi le proposizioni x con 1, x con 2, x con n? La risposta è che un teorema è ciò che si deriva da x con 1, x con 2, x con n mediante le regole della deduzione naturale oppure di un qualsiasi altro calcolo ad essa equivalente. Ciò significa che i calcoli logici consentono da un lato di esplicitare l'apparato deduttivo di una teoria permettendo di caratterizzare in maniera rigorosa il concetto di teorema e dall'altro lato ci permettono di studiare e risolvere problemi che in passato non eravamo nemmeno in grado di formulare. Quindi la definizione di teorema è esattamente la definizione di conseguenza logica. Un teorema di una teoria è una proposizione che è vera in tutte le interpretazioni in cui sono veri gli assiomi. Bene, questa puntata termina qui, noi ci vediamo la prossima volta e ricordate, senza logica, malsicogita!